Consigliere Pettinari, tornate a parlare e a puntare l'attenzione sul problema criminalità in Abruzzo, in particolare a Pescara siamo a Fontanelle, che voi avete eletto come luogo simbolo della criminalità nella nostra regione. Volete che si torni a parlare di tutto questo per far sì che venga fatto qualcosa? È un luogo dove lo Stato è andato via, lo Stato non c'è. Qui si spaccia droga ogni giorno, quotidianamente, soprattutto nelle ore notturne, i cittadini non ce la fanno più, ci sono atti intimidatori, ci sono situazioni delinquenziali di emergenza, la gente non ce la fa più addirittura, qui come dico io la criminalità si è anche voluta, perché adesso quando occupano gli alloggi popolari si autodenunciano dicendo siamo entrati all'interno dell'alloggio, però dicendo che l'hanno trovato la porta aperta. C'è una differenza tra chi sfonda e chi trova la porta aperta. Chi trova la porta aperta è un occupante senza titolo, non è un occupante abusivo, quindi le procedure di sfratto saranno molto molto più lunghe, quindi magari vengono anche consigliati da qualcuno. Ci rivergiamo a una serie di istituzioni, alla regione Abruzzo in quanto proprietaria di queste case, al sindaco di Pescara, al prefetto in quanto autorità di sicurezza. Perché? Perché qui si devono parlare, devono colloquiare assieme per fare azioni midate di repressione, sfratto degli abusivi. La maggior parte degli abusivi sono criminali pruri pregiudicati che detengono il potere in questa zona, non solo, in tante altre zone della nostra provincia e della nostra legione. E poi un sistema di recupero sociale, del tessuto sociale. Abbiamo bisogno di un team di psicologi e sociologi che vanno a recuperare i tanti giovani abbandonati. Qui addirittura, qui vicino, vediamo una palestra, è stata inaugurata, da tanti anni è rimasta così, in abbandono. Non può essere fruita dai ragazzi e i ragazzi continuano a stare in mezzo alla strada. Quindi c'è tutta una serie di proposte che noi abbiamo fatto in iniziative. È arrivato il momento che lo Stato torni in questi posti.